Disegno per Rondo, versione Winx Allora, per Rondo ho scelto lui Mentre per me ovviamente ho scelto Flora, tutta felice di stare vicino a Rondo Ho scelto Flora perché è Rosia Ok, Rondo è bellissimo, come sempre Grazie a tutti Non mi puoi provare di conoscere. Non mi puoi provare.